Quante volte l'avrete sognato, l'avrete immaginato, chissà quante volte l'avrete programmato, l'ansia che ha accompagnato gli ultimi giorni, i preparativi, eppure questo giorno era scritto dall'eternità. Era il giorno che Dio aveva preparato per voi, è il giorno che Dio ha pensato per voi dall'eternità. Pensa Vittorio quando Dio ha pensato a te, ha pensato a questo giorno, ha pensato che la tua vita non poteva essere completa senza Veronica. Veronica quando Dio ha pensato a te dall'eternità, ha pensato a questo giorno, perché la tua vita non poteva essere completa senza Vittorio. L'uno completa l'altro. Alla prossima! Veronica, ricevi questo anello, insegno del mio amore, della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vittorio, ricevi questo anello, insegno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vittorio, ricevi questo anello. Vittorio, ricevi questo anello. Vittorio, ricevi questo anello.